Saluti del padrone di casa, col quale ci troviamo molto bene. Noi a Casale, lo dico sempre, siamo molto ben accolti e quindi siamo molto contenti di continuare a venire, a fare una delle diverse delle tappe del nostro festival, che insomma sta per chiudersi, ma torneremo all'anno ventura. Sai che hai il mio impegno annuale. Quando sei anni fa Simona e Paola vennero da me, da Federico, allora per proporci di fare di Casale una delle tappe di attraverso festival, confesso, non ci sembrava vero. Abbiamo anche dovuto fare un po' quella strategia, ma non so, forse, per cercare di tirare giù il prezzo, insomma, quelle tecniche lì. Però abbiamo iniziato una collaborazione, un connubio che si è rivelato di grande successo, nonostante le difficoltà che ci sono state in questi anni, attraverso, è sempre riuscito ad offrire ai casalesi, e non solo uno spettacolo meraviglioso e soprattutto l'inaugurazione del nostro Settembre del Vino, che è il nostro mese più importante per quanto riguarda gli eventi, le manifestazioni e gli eventi culturali. Anche quest'anno abbiamo inaugurato settima giovedì scorso, stasera il secondo appuntamento, attraverso a Casale si conclude domenica, come diceva giustamente Simona, ma il nostro mese di festeggiamenti no, venerdì prossimo alle 18 inaugureremo la nostra festa del vino, che andrà avanti per i due weekend, poi avremo un ulteriore evento che non vi svelo ancora, ma qui vi invito a partecipare nel weekend successivo, saprete, nei prossimi giorni. Insomma, abbiamo un mese pieno di appuntamenti. Ovviamente l'augurio è quello che anche quest'anno sia solo un arrivederci e che l'anno prossimo ci troveremo qui a raccontare di attraverso Festival e Casale Monferrato i primi di settembre nell'apertura del nostro mese di manifestazioni. Buona serata e buono spettacolo a tutti. Grazie Emanuele. È doveroso che però io vi ricordi che domani a Ovada abbiamo un appuntamento molto importante.